La riabilitazione come strumento per guarire da un infortunio ma anche come mezzo per prevenirlo. È uno degli obiettivi del Laboratorio di Posturologia dello Sport, attivo da qualche anno presso il Renzullo Centro di Riabilitazione a Sarno. Un approccio interdisciplinare e non multidisciplinare è la chiave di successo del Laboratorio di Posturologia dello Sport. Nel laboratorio un'equipe composta da diversi professionisti contemporaneamente si mette al lavoro per esaminare l'atleta ed il confronto procura grandi vantaggi anche nella prevenzione, oltre che nella cura e nella risoluzione di un problema. Un esame clinico e strumentale valuta tutti i recettori interessati alla postura dell'atleta. I recettori interessati quali sono i principali? L'occhio, i piedi, l'apparato stomatognatico linguale, la cute con le sue cicatrici ed il vestibolo. Dal punto di vista delle figure professionali coinvolte chi opera nel Laboratorio di Posturologia? C'è il sottoscritto come fisiatra che attua una valutazione funzionale dell'atleta, poi c'è l'ognatologo che valuta l'apparato stomatognatico linguale, l'ortottista che valuta invece il recettore oculare, interviene anche il tecnico ortopedico ove mai ci fosse la necessità del confezionamento di suolette proposittive o di plantari ortopedici. E in ultimo c'è anche il preparatore atletico che si occupa sicuramente di migliorare le prestazioni degli atleti ma soprattutto di far tornare l'atleta in tempo all'attività professionale e sportiva. Dottore, questo laboratorio può essere d'aiuto anche nella prevenzione degli infortuni per gli atleti? Certamente, è importante per la cura dell'atleta con la ripresa dell'infortunio nel minor tempo possibile. Però, lavorando in questo modo, si permette alla macchina corpo dell'atleta di lavorare in maniera quanto più fisiologica possibile. Quindi si fa in modo che tutte le fasce muscolari, tutte le articolazioni lavorino con meno stress possibile. Nell'ambito di questo approccio interdisciplinare, una valenza strategica è anche quella che viene occupata dall'ambito visivo. In che modo? Sì, il sistema visivo è molto importante sia per il settore della posturologia che nel management dell'atleta. Perché per il sistema tonico-posturale, ad esempio, il ricettore visivo ha una duplice funzione. Esterocettiva, cioè quello che viene dall'esterno, e propriocettiva, cioè le informazioni propriocettive che vengono dall'interno fondamentalmente. L'esterocezione si valuta con la vista, quindi con i classici dieci decimi, mentre la proprioocettiva è attraverso la motilità oculare. Sono aspetti molto importanti, ripeto, sia per il controllo posturale, sia per lo sportivo, sia per quanto riguarda l'aspetto preventivo, nella prevenzione dell'atleta, e anche come miglioramento della performance sportiva. Dott. Riccardi, ci può fare un esempio di come questo tipo di approccio, questo tipo di analisi, può aver aiutato un paziente del Renzulo Centro di Riabilitazione? Sì, ci è capitato proprio di recente un paziente atleta che aveva un disturbo della convergenza oculare. E aveva una sensazione di instabilità quando faceva determinati gesti atletici. Eseguendo quindi la riabilitazione ortottica, il paziente è tornato dopo un mese e ci ha riferito che è migliorata notevolmente la sua performance sportiva. E quindi è anche felice il suo allenatore, naturalmente. Grazie. 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 Grazie.